oh eccoci qua questo è il primo pacco che mi arriva da rientro dal viaggio di nozze registro questo video il 18 giugno mi è arrivato dalla germania deutsche post ed è un pacco devo dire un po' sospetto ora non so cosa voglio dire packet bis packet ci arrivo bis non ne ho idea però comunque 5 kg questo non è un pacco da 5 kg è un pacco un po' sospetto perché non si muove nulla all'interno pare vuoto ora io ho cancellato tutti i dati possibili e immaginabili come vedete è partito dall'hub vicino alla mia città il 18 giugno è arrivato all'istante in giornata vediamo a questo punto che cosa contiene tutte le scritte in tedesco qui c'è la lettera di vertura ora solito coltello un po' più robustello per l'unboxing so cosa contiene perché c'era la lettera di vettura e mi pare molto molto ma molto strano che questo pacco non abbia nulla che si muova al suo interno è un po' sospetta sta cosa vedremo mi dispiacerebbe se il primo pacco di rientro fosse letteralmente un pacco cioè una fregatura speriamo di no comunque come al solito io maneggio coltelli in modo inappropriato ma d'altronde quando non ho gente più responsabile di me intorno vabbè vi maneggio un po' a cavolo non seguite il mio esempio perché rischiate di farvi male ma è tale la voglia di vedere cosa contiene un mare di similpolistirolo mamma mia ci credo che non si muoveva nulla un imballaggio del genere ok vabbè c'è un po' di neve finta in salone adesso un po' di scotch da tutte le parti beh l'imballaggio è buono devo iniziare a stare attento perché intravedo anche l'oggetto i più attenti l'avranno già più o meno identificato lunghi attese l'imballaggio fatto bene quindi devo dargliene atto beh 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 bellissima bellissima questa qui è una pelican m credo 400 o 400 una pelican che ha comunque lo stantuffo che si muove pelican no robert ah ecco la fregatura dove era penna marchiata e qui non ci si può fare nulla con un soggetto robert buchele questo però non era nell'inserzione m m m m m hai capito il furbetto comunque lo stantuffo si muove lo stantuffo si muove il pennino vediamo se è rigido o flessibile piuttosto semi flessibile direi non è non è un rigido ma e poi vabbè adesso qui vedo delle picchettature questo no buono prendiamo la lente allora con la lente in realtà non riesco a farvelo vedere altrettanto bene piuttosto preferisco lo zoom c'è scritto pelican 14 carati 585 quindi comunque per quello che ho pagato la penna questo qui dovrebbe essere un fine fatemi vedere se riesco con il loop vado indietro con lo zoom se no non mi perdonerete mai questa è la mia unghia con la lente purtroppo doppia lente non si riesce mai scusate la luce allora la cosa che ho notato è che sotto la m c'è una specie di mezzaluna un tondino una roba strana non ho ben capito il perché poi tipo una leggera incisione di mc quindi come se questo pennino fosse stato lavorato o qualcosa del genere forse da qualche da qualche pernaio non lo so comunque 585 14 carat scritto con la k m e pelican con un bella con una bella incisione non so se riesco difficile però qualcosina qualcosina vedete il cosiddetto engraving cioè l'incisione del logo pelican adesso con la luce l'oro riflette però la scritta carat e beh carat sulla parte finale vediamo se spengo sta luce se riesco a farvelo vedere meglio allora perché poi c'è il lampadario che riflette mamma mia le luci sono una cosa tremenda per i video comunque c'è scritto carat m carat 585 pelican adesso stavo leggendo io quindi giustamente non leggevate voi e basta direi che ho osservato abbastanza l'incisione del pennino il pennino sembra in buono stato sembra perché poi bisogna vederlo al lavoro un po' piegato verso il basso devo dire ma non vuol dire perché questa leggera flessione dovrebbe poter indicare anche una buona molleggiatura che infatti ha e forse anche una giusta capillarità con il suo alimentatore vediamo di mettere alla prova a questo punto lo stantuffo la penna gorgoglia il che è un ottimo segno esce dell'intiostro e indica che è stata usata ma lo sapevo quindi nulla da eccepire e soprattutto la penna non gocciola vedo passare la luce attraverso i rebbi e non in punta questo sta a indicare che sono tra loro correttamente distanziati questo mi è piaciuto meno ma forse erano le gocce che erano rimaste sull'alimentatore se vabbè qui sto muovendo io ci sta che goccioli no no va bene cioè caricare carica scaricare pure lo stantuffo si muove correttamente niente dai l'unica cosa di questa M400 che non mi è piaciuta è il fatto che sia stata segnata dal precedente possessore questo Robert Buschel Bukel come si Bukel non ho idea allora dopo l'unboxing ho fatto un confronto con quello che era l'annuncio da cui avevo acquistato tanto per cominciare si parla di si parlava di una Pelican 400 che ha un fondello arrotondato e invece in questo caso è il fondello pressoché piatto un po' smussato della M400 tutte le foto comunque anche di quella penna avevano questa parte marchiata nascosta il che se stai vendendo una penna marchiata non è il massimo anche se come sempre prima di acquistare su ebay guardo i pareri i feedback che sono stati dati al venditore e ho visto un 100% presente dal 2005 con 4620 vendite per cui un gran venditore direi cioè un grande utilizzatore di ebay la cosa mi sorprende un po' mi fa pensare anche diciamo il logo dovrebbe essere verde invece vedo un bianco andato via dal dal cappuccio oppure no vabbè questa è un'incisione fatta fatta comunque bene diciamo che la penna in sé per sé salvo il fatto che riporta queste abrasioni sulla sulla manopola dello stantuffo chiaro segno che qualcuno per nervosismo se l'è smangiucchiata per cui questo e la marchiatura sono il vero danno di questa penna perché tutto il resto mi pare in buone condizioni anche il pennino va bene secondo me ha ricevuto qualche lavorazione anche lui però questo signore che non chiamerò ovviamente per nome magari per sbaglio mi ha mandato la penna errata non quella comunque che avevo ordinato io in questo caso cosa ho fatto ho chiesto una restituzione anche se la vendita era un comprasubito senza restituzioni accettate da parte del venditore ma comunque coperta da garanzia ebay quindi che cosa vuol dire quando si riceve un oggetto che non corrisponde alla descrizione come in questo caso questa è una m400 e io mi aspettavo una pelican 400 si chiede una restituzione al venditore se comunque non dovesse accettare si chiederà ai bei di intervenire quindi non so forse un rimborso non ne ho idea diciamo questo hobby non è privo di alti e bassi chiaramente questo è un basso anche se non un basso terribile cioè molto peggio quando ti casca la penna in punta per terra la tua penna preferita magari è la cosa più brutta che possa capitare per cui in questo caso ho ricevuto la penna ne ho scartato la confezione e ho visto che non corrispondeva sono comunque coperto da garanzia ebay quindi sono abbastanza sereno fatemi sapere quali sono state le vostre disavventure sono un po' curioso di sapere com'è andata naturalmente non scoraggiamoci mai quando succedono queste cose perché sia non è detto che siano state fatte in malafede mi fa strano vedere un articolo marchiato e su questa parte non fotografato va detto che di ogni inserzione ebay potete comunque avvalervi del sacrosanto diritto di chiedere altre foto al venditore quindi in questo caso mea culpa che non l'ho fatto però comunque l'articolo deve corrispondere quindi questa è una delle caratteristiche per le quali si è legittimati a chiedere una restituzione anche in caso di restituzioni non accettate vi invito sempre a farvi valere quando non siete soddisfatti del vostro acquisto perché la vita è troppo breve per scrivere con la penna sbagliata mi viene da dire grazie a voi per la vostra attenzione vi farò comunque sapere come è andata a finire naturalmente non mi scoraggio per nulla credo che sia una pena che tra l'altro possa scrivere anche egregiamente bene non mi accingo a provarla perché probabilmente dovrò restituirla mi sono fermato all'averla pulita grazie della vostra attenzione al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti